URRA! 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 URRA Fragola che è ultima e Villa Panfili che è penultima perché diciamo l'ultima va direttamente in serie B e la penultima a fare il gironcino insieme agli altri due penultime. Diciamo che da del suo ultimo in poi va tutto bene però diciamo l'atteggiamento nostro mentale deve essere quello di arrivare un po' più su.